Il Covid-19 spinge e consolida la crescita delle coltivazioni bio in Italia e in Abruzzo, regione dove dal 2018 al 2019 le superfici biologiche coltivate sono aumentate del 6,8% contro una media nazionale dell'1,8%. L'Abruzzo si piazza così al quinto posto fra le regioni con incremento maggiore e al quindicesimo per ettari complessivamente coltivati a biologico. Inoltre durante il lockdown c'è stato anche un netto incremento delle vendite nei supermercati, più 11%. Gli italiani tendono a premiare il biologico nel fresco con aumenti del 7,2% per gli ortaggi e in alcune categorie specifiche come le uova che crescono del 9,7% nelle vendite secondo l'ISMEA. I consumi domestici di alimenti biologici raggiungono la cifra record di 3,3 miliardi per effetto di una crescita del 4,4% a giugno 2020 sotto la spinta della svolta green degli italiani favorita dall'emergenza Covid. Sul piano produttivo l'Italia è nel 2019 il primo paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico dove sono saliti a ben 80.643 gli operatori coinvolti, più 2%, di cui 2.009 in Abruzzo, più 1% rispetto al 2018, mentre anche le superfici coltivate a biologico sono arrivate a sfiorare i 2 milioni di ettari, più 2%, di cui in Abruzzo ben 42.681 ettari contro i 39.950 del 2018, più 6,8%. In questo scenario di crescita si inserisce anche l'Abruzzo dove i dati parlano chiaro e dimostrano un interesse sempre maggiore e costante nei confronti di questo segmento, dice la Coldiretti Abruzzo. Il biologico infatti suscita molto appeal nel consumatore e di conseguenza nel produttore. Ma è anche vero che il cibo biologico proveniente dall'estero, continua la Coldiretti, è sempre più presente non rispettando gli stessi standard di sicurezza. È necessario quindi fare comunque attenzione alla provenienza. Infatti Coldiretti sottolinea a livello nazionale l'aumento delle importazioni di prodotti bio da paesi extracomunitari, con un incremento complessivo del 13,1% delle quantità totali nel 2019 rispetto all'anno precedente. I cereali, le colture industriali e la frutta secca sono le categorie di prodotto biologico più importate.